La campagna di sensibilizzazione contro le stragi di fine settimana, ideata e fortemente evoluta dall'onorevole Marco Sicari, il 15 marzo propone il Gran Galà di Primavera. Questo è un evento molto importante, l'evento della primavera, un evento organizzato insieme a tutte le associazioni degli studenti degli Atenei Romani, con la collaborazione anche ai direttori che ci hanno dato uno spazio interno agli Atenei per diffondere questa notizia rispetto all'evento di domani sera. Il messaggio è sempre quello di tutela la vita, di tutela la salute propria, ma anche di rispetto verso la vita degli altri. È il messaggio più importante perché oggi la prima causa di morte in Europa e in Italia per i giovani dai 16 ai 25 anni sono appunto gli incidenti stradali. Per l'occasione sono stati messi a disposizione alcuni mezzi attraverso un accordo con Safety Driver. La serata avrà anche scopo benefico. Inizia la con la cena, ma ho chiesto alle ragazze delle associazioni di dedicare una parte degli incassi al piccolo Claudio Franceschelli, che il 4 febbraio è stato gettato sul tevere dal papà. Il messaggio che noi vogliamo portare alla mamma di questo piccolo cittadino romano che oggi non c'è più, e che oggi la mamma ancora non sta bene, come si può immaginare, è quello appunto che i giovani di Roma, gli universitari, sono vicino a lei. Grazie.